Giornale Radio Nuova I carabinieri di Cingoli hanno invece sequestrato due modeste dosi di cocaina trovate in possesso di un quarantenne della zona, mentre ad Apiro è stato segnalato un ventenne con 7 grammi di marijuana. Ad Appignano un quarantenne ha denunciato il furto della propria auto. Gli agenti hanno però scoperto che l'auto era stata rinvenuta nella provincia di Benevento con i documenti del denunciante all'interno e nelle immediate vicinanze di numerosi cavi elettrici recisi. L'uomo è stato denunciato per simulazione di reato. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti. Furto da 7.000 euro tra gioielli, borse, occhiali da sole e bottiglie di vino. Il colpo è stato messo a segno sabato sera in un'abitazione di via Troili a Villa Potenza. Al momento della rapina non vi era nessuno in casa. I ladri hanno forzato una porta a finestra, mettendo le stanze a suo quadro, staccando i quadri dalle pareti e rovistando nei cassetti e negli armadi. Forte lo shock dei proprietari, i quali ipotizzano di essere stati osservati da tempo, come testimonia un simbolo tracciato sul campanello della casa. Al momento è ancora in corso l'inventario degli oggetti rubati. Occupa abusivamente un appartamento reso inagibile dal terremoto e, segnalato alle forze dell'ordine, aggredisce gli agenti giunti sul posto. Protagonista del fatto accaduto lo scorso giovedì pomeriggio in corso Cavour, a Macerata, è stato un 45enne di origini nigeriane, già colpito da un ordine di espulsione emesso dalla questura di Taranto nell'anno 2016. L'uomo è stato quindi denunciato per occupazione abusiva dell'appartamento, resistenza a pubblico ufficiale e per rifiuto di fornire le proprie generalità, quindi accompagnato all'ufficio immigrazione per l'espulsione dal territorio italiano. Migliorano le condizioni del 24enne di Tolentino, che per causa ancora in corso di accertamento, nella serata di ieri ha perso il controllo del mezzo sul quale viaggiava, schiantandosi contro un'auto in sosta in via Le Mosse a Camerino. Il giovane è stato prima trasportato in codice rosso nel locale Nosocomio, per poi essere trasferito all'ospedale regionale di Torrette, dove è stata confermata la prognosi di 30 giorni e la Tolentinate è in ogni modo fuori pericolo di vita. Complici le condizioni meteomarine e la scarsa manutenzione del fosso, nella prima mattinata di ieri quattro pescatori perugini sono rimasti bloccati nei pressi della foce dell'asola a Civitanova Marche. Il torrente, ostruito dalla sabbia, ha infatti creato in breve tempo un pantano posto tra i pescatori e le loro auto. Sul posto si è reso necessario l'intervento, durato oltre sei ore, dei vigili del fuoco, che hanno provveduto al ripristino dell'argine e della foce con il conseguente deflusso naturale dell'acqua. Monta l'esasperazione degli allevatori marchigiani in seguito all'ennesimo attacco di lupi a una gregge dell'azienda agricola Copponi di Materica. Cinque lupi hanno infatti violato le recinzioni e attaccato il gregge, uccidendo 38 animali. Una situazione per la quale Coldiretti ha chiamato, nei giorni scorsi, il comparto alla mobilitazione generale. Oltre ai lupi, la campagna è invasa da cinghiali che distruggono i campi e minacciano i centri abitati. Nei giorni scorsi, durante un incontro in regione al presidente Ceriscioli, sono state ribadite le richieste della categoria per cui si attendono atti concreti in tempi certi. Il Comune di Macerata lancia il nuovo canale web tv, attivo già con le sedute del Consiglio Comunale di oggi e domani. La tv del Comune, realizzata su piattaforma Civicam, messa a punto da una giovane start-up della Alay Media di Materica, è raggiungibile all'indirizzo web tv.comune.macerata.it o dal sito istituzionale www.comune.macerata.it. La trasmissione live del Consiglio Comunale si affianca a quella televisiva attraverso il canale 89 del digitale terrestre MTV e alla diretta radiofonica sulle frequenze 90 e 96 e 9 della nostra emittente, Radio Nuova Macerata in blu. Sabato 24 e domenica 25 marzo tornano in tutta Italia le giornate fai di primavera, una grande festa italiana che fa sentire tutti parte di uno stesso grande e meraviglioso paese, bene comune di ogni italiano. La manifestazione, che vedrà impegnati nella sola regione Marche oltre 4.000 volontari in 75 beni eccezionalmente aperti, è anche un importante evento di raccolta fondi e un'occasione per raccontare a tante persone gli obiettivi e la missione della fondazione. Per questo, all'accesso di ogni luogo aperto, verrà chiesto ai visitatori un contributo facoltativo, preferibilmente da 2 a 5 euro, o ancora con l'invio di un sms solidale al numero 45592, attivo dal 13 marzo al primo aprile. In provincia di Macerata sono ben 13 i luoghi che la delegazione aprirà al grande pubblico, invitato per l'occasione a scoprire via Crescimbeni, palazzo Floriani Carradori, palazzo Romani Adami, il salone settecentesco della famiglia Iacoboni, palazzo Narducci Boccaccio nel solo capoluogo provinciale. Visite previste anche a Morrovalle e Pollenza. Ascoltiamo a tale proposito le parole di Alessandra Stipa, presidente Fai Marche. Queste giornate sono giornate di identità nazionale, perché noi invitiamo tutti i cittadini a sentirsi, cittadini italiani, a sentirsi uniti dietro il perseguire in queste due giornate la bellezza. E questa è veramente una cosa che ci scalda il cuore. Pensate che lo scorso anno ne abbiamo avuto 50.900 visitatori nelle sole Marche. Quindi unione, e di questo ne abbiamo particolarmente bisogno in questo momento, e naturalmente sono giornate di raccolta fondi. Noi siamo forti, soprattutto perché ci sono dietro tanti cittadini, tanti iscritti e tanta solidarietà. Don Fernando ha seminato bene, qui ci sono i suoi frutti che continuano ad arrivare. Monsignor Nazareno Marconi si è espresso così con semplicità sul fondatore del coro Pueri Cantores, Domenichino Zamberletti, ieri mattina durante la Santa Messa, in cui è stato ricordato Don Fernando Morresi, a 30 anni dalla sua scomparsa. Il Vescovo di Macerata ha fatto riferimento ai tantissimi componenti che si sono ritrovati per l'occasione nella Chiesa del Sacro Cuore. Un ulteriore appuntamento in programma sabato prossimo, 24 marzo, alle 21 sempre al Sacro Cuore, con il concerto che i Pueri Cantores dedicheranno a Don Fernando. Lo sport. E apriamo ora la pagina sportiva partendo dal calcio. Serie D, Recanatese, scatenata contro il Castelfidardo, battuto per 5-1. Il Castello inizia bene con la prima rete firmata calabrese al sedicesimo, ma i leopardiani non ci stanno e al ventesimo minuto recuperano con un cross morbido di Olivieri, trasformato da Falomi. Strada spianata per Recanatiche con Giaccaglia, Pera, l'autorete di Mantini e Senigalliesi stravince il derby. È invece finito uno a uno l'altro derby tra Matelica e Fabriano Cerreto con le reti entrambe sul rigore di Zuppardo e Tonelli. Stesso risultato per Jesina Monticelli con i gol di Cameruccio e Ciabuschi. Termina 0-0 il match tra Vastese e Sangiustese. La squadra marchigiana conquista così un punto importante contro la quarta forza del girone con in testa il Matelica, 61 punti, seguita dalla Vis Pesaro con 57. Le altre marchigiane, Castelfidardo 43 punti, Sangiustese 39, Recanatese 31, Jesina 26, Monticelli 22 e Fabriano Cerreto 19. E passiamo alla palla a volo. La Cucine Lube Civitanova si aggiudica alla vittoria contro la Wix LPR Piacenza e vola direttamente in semifinale Scudetto, dove affronterà Modena. Al pala banca di Piacenza i campioni d'Italia si sono lasciati inizialmente dominare dalla squadra di casa, complici un paio di errori e una gran quantità di difese che la formazione di Giuliani riesce a mettere in piedi rendendo la vita difficile all'attacco cuciniero. Tutt'altra Lube nel secondo set. L'attacco cresce al 76%, quello di Piacenza precipita invece al 29%. Stessa storia per il terzo set con lo show al servizio di Christensen che porta la sua squadra sulla 7-19, chiude cover ancora 11-25. Quando la strada sembra in discesa per gli uomini di Medei, il quarto set si rivela invece più equilibrato. La Lube sembra avere qualcosa in più ma cede proprio nel finale. Il tie-break sin dall'inizio di marca cuciniera e il tentativo di rimonta finale di Piacenza non riesce. L'errore di Josifov regala il 13-15 e la qualificazione alla semifinale alla Cucine Lube Civitanova. Di seguito le parole di coach Medei. È stata una partita molto dura per noi, ce l'aspettavamo. Noi forse il primo set abbiamo pagato un po' la settimana, il viaggio in Polonia, la partita in Polonia, perché ci abbiamo messo un po' a entrare nella vera partita. Poi siamo andati via lisci per due set. Il quarto c'è un bel po' di rammarico. Quella è una situazione che dobbiamo riguardare, rianalizzare, valutare bene. Ci sono da migliorare per il futuro, quindi non si possono fare regali agli avversari. La Golden Plast Potenza Picena trionfa sul pool Libertà Scantù con il 3-0 inflitto nel posticipo della terza giornata di ritorno della pool B in Serie A2 Unipolsai tra le mura amiche dell'Eurosuole Forum. Reagiscono così Biancazzurri ai risultati maturati sugli altri campi, vittorie da tre punti di Mondovi con Alessano e di Reggio Emilia contro Ortona. Al momento i Biancazzurri sono penultimi in classifica a 15 punti. Nel posticipo gli uomini di Cominetti lottano con ardore solo nel combattutissimo primo set. Poi mostrano una flessione durante il secondo parziale di fronte a una Golden Plast concentratissima, nonostante gli acciacchi patiti in settimana da Bisi e Marinelli. Quest'ultimo top scorer con 15 punti e uomo del match point. Sono molto contento per questo successo perché ha premiato il grande lavoro fatto in settimana, riferisce coach Dipinto. Ora non lasceremo nulla di intentato a Ortona. La medea macerata ha avuto la meglio sul Blue Italy. Pineto volle i per 3-7 a 0. Mantenendo così il ruolo di marcia in testa alla classifica, Pineto inizia forzando la battuta, ma la ricezione maceratese regge l'urto conducendo in porto il set fino al 19-25. Nel secondo set i ragazzi, allenati da coach Adrian Pablo Pasquali, continuano a premere ancora di più sull'acceleratore, facendo salire la ricezione al 75%. Copione del primo set che si ripete fino al 15-25 finale. Il terzo set vede una leggera flessione della medea, permettendo agli abruzzesi di crescere soprattutto in attacco. Pineto resta sempre avanti anche sulla 16-11, ma nel momento più difficile del set la medea resta ancorata alla partita. Sul 21-24 annullati due match ball prima del punto decisivo, che sancisce il 23-25 e assegna i tre punti a macerata. Il tempo nelle marche. E in chiusura uno sguardo alle previsioni di domani, martedì 20 marzo, cielo coperto con la possibilità di piogge e di nevicate, che potrebbero abbassarsi fin sui 400 metri, venti moderati da nord-occidentali a nord-orientali, temperature in progressiva diminuzione, mare molto mosso. Termina qui questa edizione del Giornale Radio, che potete riascoltare sul nostro sito radionuova.com. Da parte di Marco Morosini in studio, grazie per l'ascolto e buon proseguimento. Giornale Radio Nuova